Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, un saluto da Max, parliamo di Royal Family, perché il livello di attenzione nei confronti di Kate Middleton è sempre stato molto elevato, in questo periodo si è parlato di un sacco di cose, di Carlo, di Harry, di tante cose, però su Kate non ci siamo mai soffermati principalmente. E considerando il ruolo di primo piano all'interno della famiglia reale, è costante la curiosità che è legata al suo abbigliamento, ad esempio quello di Kate, il che ha generato una vera e propria discussione all'interno delle stanze di Kensington Palace, fino ad arrivare addirittura alla decisione di un cambio di rottanetto. La descrizione dettagliata degli abiti indossati dai membri della famiglia reale è pura consuetudine per i funzionari di Kensington Palace, basti pensare ai tanti elementi che sono stati analizzati in relazione al vestiario di chi? Della compianta regina Elisabetta II. In questo particolare ambito della gestione mediatica della corona, Kate Middleton è diventata un'assoluta protagonista. Il suo elemento distintivo è rappresentato senza ombra di dubbio dalla capacità di combinare capi realizzati da importanti stilisti e ad altri in commercio a prezzi assolutamente accessibili a un sacco di gente. Una sorta di mano tesa verso i sudditi però, mostrandosi per quanto possibile con i piedi ben ancorati a terra. E offre inoltre in questo modo la chance di poterla imitare, senza per questo però dover spendere cifre da capogiro. Chi l'ha apprezzata al Column Manor Children's Center, ad esempio, potrebbe dover spendere appena 35 sterline, che in euro sono circa 40, per poter acquistare il suo stesso abito. E per quello che ha indosso, cioè il suo cappotto di Hobbes, il listino prezzi dice che vale circa 359 sterline, che in euro sono poco più di 400 euro. Questo è un atteggiamento che risulta essere una costante nella quotidianità di Kate, come dimostra anche il fatto di essersi mostrata in un abito Zara il giorno dopo il suo sparsuoso e bellissimo matrimonio con il principe William, nell'ormai, ma ce lo ricordiamo, lontano 2011. L'attenzione dei media è stata reputata eccessiva, quindi per questo la corona ha ormai smesso di fornire aggiornamenti su aggiornamenti su aggiornamenti per quanto riguarda il vestiario della principessa del Galles per i suoi impegni. Omissioni che col tempo si sono fatte notare, evidenziando una chiara modifica alla gestione comunicativa. Vi sono però delle eccezioni, attenzione, rappresentate da eventi particolarmente rilevanti che si tratti di prime cinematografiche, eventi di Stato oppure visite all'estero che prevedano l'indosso di capi disegnati dalla nazione ospitante. A dimostrazione della grande attenzione rivolta agli outfit di Kate Middleton, Tatler ha deciso di premiarla con il primo posto nella sua speciale classifica dei volti celebri meglio vestiti del 2022. E il podio è stato aperto da Freya Aspinall, celebre attivista giunta al terzo posto. Parliamo di podio, quindi, no? Spazio poi all'imprenditrice Vimbai Masiyiwa, battuta unicamente dalla duchessa di Cambridge, oggi principessa del Galles. La futura regina consorte vive così, in maniera costante, elogiata per le proprie scelte di stile. E basti pensare alle parole del caporedattore di British Vogue, che l'ha esaltata per la sua capacità di poter ispirare le persone con i capi scelti, che in molti casi sono delle effettive presenze di posizione del grande impatto. Ed ecco le parole di Edward Annenfull, che dice, è cresciuta con una tale grazia, senza però perdere ciò che conta più per lei. È d'ispirazione per molte persone, che si identificano come Cade Middleton. Quindi è molto influente, no? E poco importa se non vi saranno più comunicati ufficiali sulle combinazioni dei suoi outfit, l'impatto che la principessa è in grado di avere resta immutato per chi continua ad amarla. E sono in tanti. E questo, cari amici, è tutto per quanto riguarda questo video. Vi ringrazio per l'ascolto, come sempre. Noi ci sentiremo alla prossima, sempre su Pausa Caffè Live, per un prossimo video.